ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco voltaren 50 mg compresse gastro resistenti i foglietti illustrativi di voltaren sono disponibili per le confezioni voltaren 50 mg compresse gastro resistenti voltaren 100 mg compresse a rilascio prolungato voltaren 75 mg compresse a rilascio prolungato voltaren 50 mg compresse solubili voltaren 75 mg bar a 3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare voltaren 100 mg supposte indicazioni perché si usa voltaren a cosa serve categoria farmaco terapeutica anti infiammatorio ed anti reumatico non steroideo indicazioni terapeutiche malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali artrite reumatoide spondilite anch'io sante artrosi reumatismi non articolari dolori da infiammazione di origine non reumatica o a seguito di un trauma trattamento di dolori mestruali controindicazioni quando non deve essere usato voltaren ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti ipersensibilità agli altri analgesici antipiretici antinfiammatori non steroidei e in particolare verso l'acido acetilsalicilico malattie epatiche pregresse ulcera sanguinamento perforazione gastrointestinale in atto storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con fans o storia di emorragia barra ulcera peptica ricorrente due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento vedere avvertenze speciali grave insufficienza epatica grave insufficienza renale insufficienza cardiaca con gestizia conclamata classe ii videlnia cardiopatia ischemica arteriopatia periferica e barro vasculopatia cerebrale in soggetti con emorragie in atto e diatesi emorragica come altri fans diclofena che anche controindicato in pazienti nei quali si sono verificati dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri fans attacchi asmatici orticaria oriniti acute in caso di alterazioni nella produzione delle cellule del sangue in caso di terapia diuretica intensiva vedere interazioni voltaren 50 mg compresse gastro resistenti e altresì controindicato in età pediatrica precauzioni per l'uso cosa serve sapere prima di prendere voltaren informazioni generali gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi vedere dose modo e tempo di somministrazione e i paragrafi sottostanti sui rischi gastrointestinali e cardiovascolari l'uso di diclofenac in concomitanza con altri fans sistemici inclusi gli inibitori selettivi della ciclo ossigenasi 2 deve essere evitato a causa della mancanza di qualsiasi evidenza che dimostri benefici sinergici e sulla base di potenziali effetti indesiderati additivi anziani sul piano medico di base è richiesta cautela negli anziani in particolare nei pazienti anziani fragili o in quelli con un basso peso corporeo si raccomanda l'utilizzo della più bassa dose efficace come con altri fans possono in rari casi verificarsi anche reazioni allergiche comprese reazioni anafilattiche barra anafilattoidi senza una precedente esposizione al diclofenac come altri fans voltaren può mascherare i segni e sintomi di infezioni a causa delle sue proprietà farmacodinamiche effetti gastrointestinali durante il trattamento con tutti i fans incluso diclofenac sono state riportate e possono comparire in qualsiasi momento con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali emorragia gastrointestinale ulcerazione e perforazione che possono essere fatali esse hanno in genere conseguenze più gravi negli anziani se in pazienti in terapia con diclofenac compaiono sanguinamento gastrointestinale o ulcerazione il medicinale deve essere interrotto come con tutti i fans incluso diclofenac è obbligatoria una stretta sorveglianza medica e particolare cautela deve essere usata nel prescrivere diclofenac a pazienti con sintomi indicativi di disordini gastrointestinali giri o con storia indicativa di ulcerazioni gastriche o intestinali sanguinamento perforazione vedere effetti indesiderati il rischio di sanguinamento giri è più alto con dosi aumentate di fans e in pazienti con storia di ulcera soprattutto se complicata da emorragia o perforazione gli anziani hanno una frequenza maggiore di reazioni avverse soprattutto sanguinamento gastrointestinale e perforazione che possono essere fatali vedere effetti indesiderati per ridurre il rischio di tossicità g in pazienti con una storia di ulcera in particolare se complicata da emorragia o perforazione e negli anziani il trattamento deve essere iniziato e mantenuto con la più bassa dose efficace l'uso concomitante di agenti protettori misoprostolo o inibitori di pompa protonica deve essere considerato per questi pazienti e anche per pazienti che assumono basse dosi di acido acetil salicilico asa barra aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali vedere sotto e interazioni pazienti con storia di tossicità g in particolare anziani devono riferire qualsiasi sintomo addominale inusuale soprattutto emorragia g in particolare nelle fasi iniziali del trattamento è raccomandata cautela in pazienti che assumono medicinali concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcerazione o sanguinamento come corticosteroidi sistemici anticoagulanti come varfarin inibitori selettivi delle ruptache della serotonina o agenti anti aggreganti come l'aspirina vedere interazioni quando si verifica emorragia o ulcerazione gastrointestinale in pazienti che assumono voltare in 50 mg compresse gastro resistenti il trattamento deve essere sospeso anche in pazienti con colite ulcerosa o morbo di cron deve essere esercitata una stretta sorveglianza medica e cautela poiché tali condizioni possono essere sacerdate vedere effetti indesiderati effetti epatici in caso di prescrizione di diclofenac a pazienti affetti da insufficienza epatica è necessaria stretta sorveglianza medica in quanto la condizione può essere esacerbata come con altri fans incluso diclofenac possono aumentare i valori di uno o più enzimi epatici durante trattamenti prolungati con diclofenac sono indicati come misura precauzionale regolari controlli della funzionalità epatica se i parametri di funzionalità epatica risultano persistentemente alterati o peggiorati se si sviluppano segni clinici o sintomi consistenti di epatopatia o se si verificano altre manifestazioni per esempio eosinofilia rush il trattamento con diclofenac deve essere interrotto un'epatite con l'uso di diclofenac può verificarsi senza sintomi prodromici particolare cautela deve essere posta nell'uso di diclofenac nei pazienti con porfiria epatica in quanto potrebbe scatenare un attacco effetti renali poiché in associazione alla terapia con fans incluso diclofenac sono stati riportati ritenzione di fluidi ed edema è richiesta particolare cautela in caso di insufficienza cardiaca o renale storia di ipertensione negli anziani in pazienti in trattamento concomitante con diuretici o con medicinali che possano influire significativamente sulla funzionalità renale e in quei pazienti con una sostanziale deplezione del volume extracellulare dovuta a qualsiasi causa per esempio prima o dopo interventi chirurgici maggiori vedere controindicazioni in tali casi quando si somministra diclofenac si raccomanda per precauzione il monitoraggio della funzionalità renale l'interruzione della terapia è normalmente seguita da un ritorno alle condizioni precedenti al trattamento effetti cutanei gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali includenti dermatite esfoliativa sindrome di stevens johnson e necrolisi tossica epidermica sono state riportate molto raramente in associazione con l'uso dei fans vedere effetti indesiderati nelle prime fasi della terapia i pazienti sembrano essere a più alto rischio per queste reazioni l'insorgenza della reazione si verifica nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento voltaren deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di per sensibilità effetti cardiovascolari e cerebrovascolari un adeguato monitoraggio ed opportune istruzioni sono necessari nei pazienti con storia di ipertensione e barra o insufficienza cardiaca con gestizia classe niai poiché in associazione al trattamento con fans sono stati riscontrati ritenzione di liquidi ed edena sperimentazioni cliniche e dati epidemiologici indicano in modo coerente un aumento del rischio di eventi trombotici arteriosi per esempio infarto miocardico ictus associati all'uso di diclofenac soprattutto ad alte dosi 150 mg barra di e al trattamento a lungo termine i pazienti che presentano significativi fattori di rischio di eventi cardiovascolari ad esempio ipertensione iperlipidemia diabete mellito fumo devono essere trattati con diclofenac solo dopo attenta considerazione dato che i rischi cardiovascolari del diclofenac possono aumentare con la dose e la durata dell'esposizione si devono usare la minima durata possibile e la minima dose giornaliera efficace la risposta alla terapia e la necessità del miglioramento dei sintomi devono essere rivalutate periodicamente i pazienti con insufficienza cardiaca con gestizia classe niai cardiopatia ischemica accertata malattia arteriosa periferica e barra o malattia cerebrovascolare devono essere trattati con diclofenac soltanto dopo attenta valutazione i pazienti devono prestare attenzione a segni e sintomi di eventi atero trombotici gravi ad esempio dolore toracico fiato corto debolezza difficoltà di parola che possono verificarsi senza alcuna avvisaglia i pazienti devono essere istruiti a contattare immediatamente un medico nel caso si verifichi uno di questi eventi effetti ematologici durante trattamenti prolungati con diclofenac come con altri fans sono indicati controlli della crasi ematica come altri fans diclofenac può inibire temporaneamente l'aggregazione piastrinica pazienti con difetti di emostasi devono essere attentamente monitorati asma preesistente in pazienti con asma rinite allergica stagionale rigonfiamento della mucosa nasale per esempio polipi nasali malattie pulmonarie ostruttive croniche o infezioni croniche del tratto respiratorio specialmente se collegate a sintomi simili alla rinite allergica sono più frequenti che in altri pazienti reazioni ai fans quali esacerbazioni dell'asma cosiddetta intolleranza agli analgesici bar asma da analgesici e dai di quinche orticaria si raccomanda pertanto speciale precauzione in tali pazienti predisporsi all'emergenza questo vale anche per i pazienti allergici ad altre sostanze per esempio con reazioni cutanee prurito orticaria interazioni quali farmaci alimenti possono modificare l'effetto di voltren informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale anche quelli senza prescrizione medica le seguenti interazioni comprendono quelle osservate con diclofenac compresse gastro resistenti e barra o altre forme farmaceutiche di diclofenac litio se somministrato insieme a preparazioni contenenti litio il diclofenac ne può elevare la concentrazione plasmatica si raccomanda il monitoraggio dei livelli serici di litio di gossina se somministrato insieme ad altre preparazioni contenenti di gossina il diclofenac ne può elevare la concentrazione plasmatica si raccomanda il monitoraggio dei livelli serici di digossina diuretici ed agenti antipertensivi come altri fans l'uso concomitante di diclofenac con diuretici o agenti antipertensivi esempio beta bloccanti inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina ace può causare una diminuzione del loro effetto antipertensivo quindi l'associazione deve essere assunta con cautela e di pazienti soprattutto anziani devono ricevere il monitoraggio periodico della loro pressione sanguigna in alcuni pazienti con funzione renale compromessa per esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale compromessa la cosomministrazione di un ace inibitore o di un antagonista dell'angiotensina e di agenti che inibiscono il sistema della ciclo ossigenasi può portare a un ulteriore deterioramento della funzione renale che comprende una possibile insufficienza renale acuta generalmente reversibile queste interazioni devono essere considerate in pazienti che assumono voltare in concomitanza con ace inibitori o antagonisti dell'angiotensina ii i pazienti devono essere adeguatamente idratati e deve essere preso in considerazione il monitoraggio della funzione renale dopo l'inizio della terapia concomitante e in seguito periodicamente in particolare per i diuretici e gli ace inibitori a causa di un aumentato rischio di nefrotossicità il trattamento concomitante con farmaci risparmiatori di potassio può essere associato ad un aumento dei livelli serici di potassio che devono quindi essere controllati frequentemente vedere precauzioni per l'uso altri fans e corticosteroidi la contemporanea somministrazione di diclofenac ed altri antinfiammatori non steroidei sistemici può aumentare la frequenza di effetti indesiderati gastrointestinali vedere precauzioni per l'uso anticoagulanti agenti antiaggreganti si raccomanda cautela in quanto la somministrazione contemporanea potrebbe aumentare il rischio di sanguinamento vedere precauzioni per l'uso sebbene dai dati delle sperimentazioni cliniche non vi sia alcuna indicazione di un'influenza di diclofenac sull'effetto anticoagulante ci sono state isolate segnalazioni di un aumentato rischio di emorragia con l'uso concomitante di diclofenac e una terapia anticoagulante per questi pazienti si raccomanda un attento monitoraggio inibitori selettivi delle ruptache della serotonina saris la somministrazione contemporanea di fans sistemici incluso diclofenac es ris può aumentare il rischio di sanguinamento gastrointestinale vedere precauzioni per l'uso antidiabetici gli studi clinici hanno dimostrato che il diclofenac può essere assunto contemporaneamente ad antidiabetici orali senza modificare il loro effetto clinico tuttavia sono stati riportati casi isolati di effetto sia ipo sia iperglicemizzante con la necessità di modificare la posologia degli agenti antidiabetici somministrati durante il trattamento con diclofenac per questo motivo in caso di terapia concomitante si raccomanda come misura precauzionale il monitoraggio dei livelli ematici di glucosio metotrexate diclofenac può inibire la liberazione tubulare renale di metotrexate aumentandone i livelli è raccomandata cautela in caso di somministrazione di fans incluso diclofenac 24 ore prima o dopo un trattamento con metotrexate poiché le concentrazioni ematiche di metotrexate e di conseguenza la tossicità di questa sostanza possono aumentare ciclosporina per il suo effetto sulle prostaglandine renali diclofenac come altri fans può aumentare la nefrotossicità della ciclosporina pertanto il diclofenac va somministrato a dosaggi inferiori a quelli che sarebbero utilizzati in pazienti non in terapia con ciclosporina antibatterici chinolonici sono stati segnalati casi isolati di convulsioni probabilmente dovuti all'uso concomitante dei chinoloni e dei fans fenitoina quando si utilizza fenitoina insieme a diclofenac si raccomanda il monitoraggio delle concentrazioni plasmatiche di fenitoina a causa di un prevedibile incremento dell'esposizione alla fenitoina colestipolo e colestiramina questi agenti possono indurre un ritardo o una diminuzione nell'assorbimento di diclofenac quindi si raccomanda di somministrare il diclofenac almeno un'ora prima o quattro sei ore dopo la somministrazione di colestipolo bar a colestiramina potenti inibitori del cip 2 c9 si raccomanda cautela quando si prescrive il diclofenac insieme a potenti inibitori del cip 2 c9 come sul film pirazone voriconazolo ciò potrebbe portare ad un incremento significativo delle concentrazioni plasmatiche di picco e dell'esposizione al diclofenac dovuti all'inibizione del metabolismo dello stesso avvertenze è importante sapere che fertilità gravidanza e allattamento chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale fertilità come per altri fans l'uso di voltaren può alterare la fertilità femminile e non è raccomandato in donne che desiderino concepire deve essere considerata la sospensione di diclofenac in donne che abbiano difficoltà di concepimento o che siano sottoposti ad accertamenti sull'infertilità gravidanza l'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e barra o lo sviluppo embryo barra fetale risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l'uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza il rischio assoluto di malformazioni cardiache aumentava da meno dell'uno per cento fino a circa l'uno virgola 5 per cento è stato ritenuto che il rischio aumenta con la dose e la durata della terapia negli animali la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della perdita di pre e post impianto e di mortalità embrione fetale inoltre un aumento di incidenza di varie malformazioni inclusa quella cardiovascolare è stato riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine durante il periodo organogenetico durante il terzo trimestre di gravidanza tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine possono esporre il feto a tossicità cardiopolmonare con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare disfunzione renale che può progredire in insufficienza renale con oligoidroannios la madre e il neonato alla fine della gravidanza a possibile prolungamento del tempo di sanguinamento ed effetto anti aggregante che può occorrere anche a dosi molto basse inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio conseguentemente volta ren 50 mg compresse gastro resistenti e controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza allattamento come altri fans il diclofenac passa nel latte materno in piccole quantità si raccomanda pertanto di non somministrare volta ren durante l'allattamento per evitare effetti indesiderati nel lattante effetti sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari i pazienti che manifestassero disturbi della visione capogiri vertigini sunnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac dovrebbero stenersi dal guidare un veicolo o dall'utilizzare macchinari informazioni importanti su alcuni eccipienti le compresse gastro resistenti di volta ren contengono lattosio se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale olio di ricino poliosiprilato idrogenato le compresse gastro resistenti di volta ren contengono olio di ricino poliosiprilato idrogenato può causare disturbi gastrici e diarrea dosi in modo d'uso come usare volta ren posologia gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi vedere precauzioni per l'uso popolazione generale come regola il dosaggio iniziale giornaliero di diclofenac e di 100 150 mg in casi più lievi nonché nelle terapie a lungo termine di solito sono sufficienti 75 100 mg al giorno il dosaggio giornaliero dovrebbe essere generalmente prescritto in due tre dosi frazionate nella dismenorrea primaria il dosaggio giornaliero che va adattato individualmente è di 50 150 mg inizialmente si dovrebbe somministrare una dose di 50 100 mg e se necessario aumentarla nel corso dei successivi cicli mestruali fino ad un massimo di 150 mg al giorno il trattamento dovrebbe iniziare alla comparsa dei primi sintomi e in base alla sintomatologia continuare per qualche giorno per eliminare il dolore notturno e la rigidità mattutina il trattamento con compresse durante il giorno può essere integrato dalla somministrazione di una supposta al momento di coricarsi fino a un dosaggio massimo giornaliero complessivo di 150 mg le compresse vanno deglutite intere con un po di liquido e non devono essere frantumate o masticate pertanto in tutti i casi in cui sia necessario somministrare dosi unitarie da 75 mg deve essere impiegata un'altra forma farmaceutica di voltaren popolazioni speciali pazienti pediatrici voltaren compresse gastro resistenti non deve essere usato in bambini e adolescenti al di sotto dei 14 anni anziani nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati vedere precauzioni per l'uso pazienti con insufficienza cardiaca congestizia nia 1 o significativi fattori di rischio cardiovascolare i pazienti che presentano significativi fattori di rischio per malattia cardiovascolare devono essere trattati con diclofenac solo dopo attenta considerazione vedere precauzioni per l'uso compromissione renale voltaren e controindicato nei pazienti con grave insufficienza renale vedere controindicazioni si raccomanda cautela quando voltaren e somministrato a pazienti con compromissione renale da lieve a moderata vedere precauzioni per l'uso compromissione epatica voltaren e controindicato nei pazienti con grave insufficienza epatica vedere controindicazioni si raccomanda cautela quando voltaren e somministrato a pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata vedere precauzioni per l'uso sovradosaggio cosa fare se avete preso una dose eccessiva di voltaren sintomi non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito emorragia gastrointestinale diarrea capogiri tinnito convulsioni nel caso di avvelenamento significativo sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici misure terapeutiche il trattamento dell'avvelenamento acuto danti infiammatori non steroidei incluso diclofenac consiste essenzialmente in misure di supporto e trattamento sintomatico in caso di complicazioni come ipotensione insufficienza renale convulsioni disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria dovrebbero essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico le misure terapeutiche da adottare in caso di sovradosaggio sono le seguenti l'assorbimento deve essere impedito non appena possibile per mezzo di lavanda gastrica e trattamento con carbone attivo trattamenti di sostegno e sintomatici dovrebbero essere adottati in caso di complicazioni ipotensione insufficienza renale convulsioni irritazione gastrointestinale e depressione respiratoria terapie specifiche come diuresi forzata dialisi o emoperfusione non permettono di eliminare gli antinfiammatori non steroidei a causa del loro elevato legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo in caso di ingestione barra assunzione accidentale di una dose eccessiva di voltaren avvertire immediatamente il medico rivolgersi al più vicino ospedale se sia qualsiasi dubbio sull'uso di voltaren rivolgersi al medico o al farmacista effetti indesiderati quali sono gli effetti collaterali di voltaren come tutti medicinali voltaren può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino le reazioni avverse sono elencate per frequenza per prima la più frequente utilizzando la seguente convenzione comune e un centesimo i seguenti effetti indesiderati includono quelli riportati con l'uso a breve o a lungo termine patologie del sistema emolinfopoietico molto raro trombocitopenia leucopenia anemia compresa l'anemia emolitica e aplastica a granulocitosi disturbi del sistema immunitario raro ipersensibilità preazioni anafilattiche anafilattoidi compresi ipotensione e shock molto raro ed hai mangio neurotico incluso ed hai ma facciale disturbi psichiatrici molto raro disorientamento depressione insonnia incubi irritabilità reazioni psicotiche patologie del sistema nervoso comune cefalea capogiri raro sonnolenza molto raro parestesia compromissione della memoria convulsioni ansietà tremori meningite asettica alterazioni del gusto accidenti cerebrovascolari patologie dell'occhio molto raro disturbi della visione visione offuscata diplopia patologie dell'orecchio e del labirinto comune vertigini molto raro timeto peggioramento dell'udito patologie cardiache non comune infarto miocardico insufficienza cardiaca palpitazioni dolore toracico patologie vascolari molto raro ipertensione basculite patologie respiratorie toraciche mediastiniche raro asma compresa dispnea molto raro polmonite patologie gastrointestinali comune nausea vomito diarrea dispepsia dolore addominale flatulenza diminuzione dell'appetito raro gastrite emorragia gastrointestinale e matemesi diarrea emorragica melena ulcera gastrointestinale con o senza emorragia e perforazione molto raro colite compresa colite emorragica ed esacerbazione di colite ulcerativa o morbo di cron costipazione stomatite inclusa stomatite ulcerativa glossite disturbi esofagei stenosi intestinale diaframma simile pancreatite patologie patobiliari comune aumento delle transaminasi raro epatite ittero disturbi epatici molto raro epatite fulminante necrosi epatica insufficienza epatica patologie della cute e del tessuto sottocutaneo comune rush raro orticaria molto raro dermatiti bollose eczema eritema eritema multiforme sindrome di stevens johnson necrolisi tossica epidermica sindrome di liel dermatite esfoliativa perdita di capelli reazione di fotosensibilità porpora porporana filattoide prurito patologie renali e urinarie molto raro insufficienza renale acuta e maturia proteinuria sindrome nefrotica nefrite interstiziale necrosi papillare renale patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione raro edema la frequenza riflette i dati del trattamento a lungo termine ad alto dosaggio 150 mg baradie il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati segnalazione degli effetti indesiderati se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista gli effetti indesiderati possono inoltre essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https 2 punti barra barra www.aifa.gov.it barra content barra segnalazioni trattino reazioni trattino avverse la segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale scadenza e conservazione scadenza vedere la data di scadenza riportata sulla confezione la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato attenzione non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione condizioni di conservazione conservare a temperatura inferiore a 30 gradi i medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici chiedere al farmacista come eliminare medicinali che non si utilizzano più questo aiuterà a proteggere l'ambiente tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini composizione una compressa contiene principio attivo diclofene axodico 50 mg eccipienti amido di mais magnesio sterato silice colloidale anidra lattosio monoidrato cellulosa micro cristallina povidone carbo simetilamido sodico a talco ipromellosa olio di ricino poliossidrilato idrogenato ferroossido rosso ferroossido giallo titanio di ossido poliacrilato dispersione 30 per cento copolimero macrogoli emulsione anti schiuma al silicone forma farmaceutica e contenuto compresse gastro resistenti astuccio da 30 compresse fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco contenuto pubblicato a gennaio 2016 le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco disclaimer informazioni utili grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato